Penso che preverà una soluzione di buon senso e quindi una soluzione che garantisca appunto i movimenti tangenziali, quindi il secondo lotto, ma nel contempo possa contenere per quanto possibile i costi. Obiettivo portare a termine la tangenziale di Como con il secondo lotto, cercando di ridurre i costi quanto più possibile e reperire le risorse economiche necessarie. E' quanto emerso stamani dal tavolo per la competitività e lo sviluppo della provincia di Como organizzato nelle serre di Villa del Grumello. Una riunione che si è concentrata esclusivamente sul secondo lotto della tangenziale, priorità per il territorio insieme con la variante della Tremezzina, che al momento non è stato finanziato. Al centro della discussione odierna i prossimi necessari step a partire dalla progettazione definitiva che aveva visto lievitare i costi. Il passo fondamentale dal mio punto di vista, peraltro anche poi condiviso a tutto il tavolo, è quello di andare innanzitutto a rivedere da un punto di vista prettamente tecnico il progetto definitivo sul secondo lotto. Perché parrebbe, o comunque ci sarebbe questa possibilità che non è assolutamente da scartare, almeno come verifica che una variante di quella progettazione con un piccolo spostamento senza fare un altro progetto potrebbe comportare un, non dico un dimezzamento, ma un abbattimento dei costi. Qualora questa verifica invece dovesse confermare che il costo di quel secondo lotto, così come è progettato definitivamente, è di quella grandezza, la seconda strada, peraltro che c'è già, è quella appunto di prendere il progetto della provincia, oggi solo come studio di fattibilità, che ha il consenso comunque di tutte le amministrazioni comunali, e chiedere a Pedemontana di procedere con la progettazione preliminare di quel tracciato. Lo studio di fattibilità, già realizzato dalla provincia di Como, prevede un tracciato alternativo, che però deve essere studiato e valutato. A breve verrà infatti definito un incontro con i vertici di autostrada Pedemontana-Lombarda. Le analisi verranno fatte, verranno fatte in maniera ovviamente adeguata per poter avere un progetto concreto. Chiederemo a Pedemontana di darci anche dei tempi certi. Ma ci sono altre due questioni ribadite oggi, che riguardano invece il primo lotto inaugurato lo scorso 23 maggio. Innanzitutto l'urgenza di aprire, anche già in questa fase transitoria, i collegamenti verso nord, quindi da e per chiasso. E poi che nell'ambito delle compensazioni che verranno studiate con Autostrade per l'Italia, si privilegi il mantenimento della gratuità sul primo lotto di tangenziale. Meglio nelle compensazioni eventualmente mantenere lo stesso pedaggio su grandate, ma non far pagare la tangenziale.